Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di asparagi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono punte di asparagi, parmigiano, basilico, pinoli, olio, sale, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizioniamo il cestello con gli asparagi, e li facciamo cuocere per 18 minuti. Temperatura baroma, velocità 2. Mettiamo da parte gli asparagi e sbordiamo il boccale. Mettiamo nel boccale il parmigiano, i pinoli e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo gli asparagi, basilico, il sale, il pepe e l'olio. E li facciamo tritare per 40 secondi. a velocità 7. Il pesto è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di asparagi, ideale per condire pasta, crostini di pane o insaporire carni bianche. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!